Il pittore Riccardo Benvenuti è morto nel pomeriggio dopo un incidente avvenuto alla fine della cavalcavia del Viale Europa. Stando ai primi rilievi potrebbe essere stato colpito da un malore prima di finire con la sua Peugeot contro un'utilitaria che proveniva in senso opposto. Inutile il pronto intervento dei sanitari del 118, ferite in maniera non grave una donna e una bambina che viaggiavano sull'altra autovettura. Nato nel 1939, Riccardo Benvenuti era artista di livello internazionale, conosciutissimo e apprezzato per le sue donne, pittore poliedrico nella scelta delle tecniche, era sempre rimasto legato alla sua amatissima Lucca.